Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Come visto anche nei giorni scorsi si conferma l'arrivo di un'irruzione di aria gelida sui Balcani. Questa interesserà parzialmente anche l'Italia portando un calo delle temperature e maltempo specie al sud. Tra venerdì e sabato ecco l'anticiclone in rimonta sull'Europa occidentale e poi sulla Scandinavia, mentre aria molto fredda raggiungerà i paesi dell'Europa orientale con temperature a 850 etto pascal prossime ai meno 20 gradi. Afflusso di aria fredda sul Medio Basso Adriatico al sud a partire dalla giornata di sabato, quando non mancheranno un po' di piogge e anche neve fino a quote piuttosto basse. Apice dell'ondata di freddo probabilmente tra domenica e lunedì, quando le temperature dovrebbero portarsi anche di 6-8 gradi sotto le medie sulle regioni meridionali. Per ulteriori dettagli sul maltempo e sulle quote neve occorrerà comunque aspettare i prossimi giorni. Segui da ora tutti gli aggiornamenti sul nostro sito o sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Metro Italiano.